Che segnità! 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 Che è stato? Ah, scusa, scusa Maronna. Ragazzi, la Madonna purtroppo non sta molto bene, perché è vero che l'aria di Roma è troppo pulita, capirai? Mi ricorda cose troppo brutte. Ma state esiste, tu capisci uno cazzo, si manca l'italiano, che cazzo voi sapete? Ma io non posso. No, ora di andare a mano, non sta buono, e facciamo un cocco di maniera, la maria che fa. Ma ci stanno i fogli della Madonna? Ci sono o no? I fogli della Madonna? Qualcuno sa qualcosa? Vedi, è un po' di giro. Fantastico. Si fa scuro rindo middle of the night, non pensiero che mi ha sinto, a quanto tempo non mi faccio una bella, sulle seche rindo niente all the time, capo di che senza scuola, e serato su giro. E' un'ossessione che vado dentro me. Facciamoci tutti quanti per mano e facciamo l'amore. Tutti, tutti inzioni. Se avete pisse, se avete cazzi, capo, chiamate. Bravo, Pippo! Bravo! Grazie! un po' mezzo ma con il rapino allora sai come si suona il passamontagna guardate come si suona è un po' più scordato no allora devi fare una cosa molto semplice quando io ti do il via dovrai iniziare a dire tutte frasi di minaccia tipo dammi i soldi dammi i soldi dammi i soldi è un talento naturale quello che dovete fare è attorciare i fogli farli a monnezza e lanciarli sul palco in questo modo la madonna sarà meglio Milano ci siamo buona Milano per le tour in nord Europa io stavo io stavo si tu mi vede solo non fai un drago ma sto crescendo non fai più è più stavo un certo come se in anduno ma io a milla volte la d'accelerista la d'accelerista ma mangia la domanda fa bene Sontro gli altri perché Stavizze e buona domande Sontro gli altri perché Stavizze e buona domande Assoluto gli marginali Assoluto gli ragazzi E risuogliagli Stavizzo le rive Sontro gli altri perché Staviste ma non vanno a sé Ma che sono sti succedendo? BOOOOOO! Ehi, allora, mi facciamo ammazzare i nostri notti in punk, ed ecco, la ricca da quella torta serata, la parola, la parola, la parola. Allora, non sai di shio, voi, si, 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 ecco, è no, 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 eh. Grazie a tutti. 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 Tumpolata, puoi venire per favore? Grazie a tutti. 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 Roma! Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . , 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 ,,